Al momento nessuna svolta, Messina il primo KO della gestione Zeman, una delle prestazioni più brutte dall'inizio del campionato. Squadra piatta e passiva, l'imperativo è rialzare la testa, serve una sterzata, nuovo aggancio del Foggia che è una migliore differenza a reti. Dunque del Cazzurri Quarti, Picerno a due punti, un girone fa il vantaggio sui Lucani era di ben 21 lunghezze, di 17 sul Foggia e di 15 sul Cerignola. Oggi ha soli quattro punti. Incredibile il margine dilapidato dal Pescara. Arrivato da poco più di due settimane, Zeman si è prefissato l'obiettivo di migliorare la squadra in ottica playoff. Tutto giusto, ma bisogna dare un occhio anche al presente. Il terzo posto è vero, non dà certezze in assoluto, permette però di saltare i primi due turni preliminari. Non è poco. Non sempre si affrontano squadre aperte come la Juve Stabia. Ci sono anche per esempio Gelbison e Messina che lottano per la salvezza e ti impediscono di giocare come vorresti. È assolutamente normale. In questi casi bisognerebbe trovare un punto di equilibrio. Ma ciò che non deve mai mancare è la cattiveria, la garra. Quando non arrivi con le tue giocate devi ovviare con il cuore, con la corsa, con l'agonismo, tutte risorse imprescindibili in qualsiasi competizione sportiva. Come sempre il calcio offre la possibilità del riscatto immediato. Si torna all'Adriatico. La Turris è in serie utile da quattro turni. Il team Corallino è tornato prepotentemente in corsa per la salvezza diretta. Out Cancellotti per un problema al Polpaccio. Ancora ai margini Giabua. In compenso torna Abile Craia, soprattutto Raffià, dopo la squalifica.